Agostino Macalli è il candidato della lista Insieme per Casnigo, come si presenta? Allora, sono pensionato, es bancario, 66 anni, niente, ho fatto 5 anni di minoranza, abbiamo io e ovviamente coloro che erano in minoranza con me, abbiamo maturato quel minimo di conoscenza e di esperienza che ci permette di poterci ripresentare. Ecco, ma la vostra può essere definita una lista di centro-destra oppure è una lista civica anche un po' trasversale ai movimenti? Noi, già dalle prime riunioni che abbiamo fatto a livello di gruppo, tutti coloro che hanno partecipato, è stato chiarito come concetto base che volevamo essere una lista civica a tutti gli effetti. Questo perché vorremmo che tutta la popolazione di Casnigo ci percepisse come tali, che quindi non vogliamo avere agganci politici, ma è esclusivamente una lista che ha maturato queste conoscenze e agisce solo e esclusivamente nell'interesse della popolazione di Casnigo, senza avere vincoli di natura diversa. Come vi ponete rispetto alle altre forze in campo? Noi, come vecchia minoranza, abbiamo stilato un programma che ovviamente lo stiamo tuttora rielaborando, ridefinendo, anche in funzione del fatto che coloro che saranno in lista e comunque dei gruppi di lavoro di altre persone che in lista ovviamente per i motivi legislativi che sappiamo non potranno entrare perché il numero è limitato ad otto. Stiamo appunto facendo questo un lavoro di definizione nei dettagli del programma per poter dare a ciascun componente sia dal Consiglio che dal Digiunta e dai vari assessorati distribuire i singoli ruoli sulle persone che sono più addentro sulle singole tematiche. Avete già deciso chi potrebbe essere il Vice Sindaco? Allora d'accordo nel gruppo Alberto Bettinaglio che era il candidato delle precedenti amministrative per una scelta sua personale ha pensato bene di passare la palla al sottoscritto e comunque il discorso è scaturito e condiviso all'interno del gruppo da parte di tutti in sostanza. Quindi il candidato sindaco sono io e Alberto Bettinaglio si presenta come Vice Sindaco. Quindi a breve ci sarà la presentazione del vostro programma? Lo presenteremo dopo che saranno scaduti i termini perché i termini per la presentazione della lista sono il 26 e il 27 di aprile quindi subito dopo usciremo con la lista definitiva e con il programma nei dettagli del programma. Inoltre avete già in programma alcuni incontri sul territorio? Abbiamo stabilito nella prima settimana, prossimamente la prima settimana di maggio che faremo degli incontri con le varie associazioni e comunque un dibattito pubblico di presentazione.